Una frana sulla strada statale 17bis all'altezza della Galleria Trevasca ha provocato la chiusura in entrambe le direzioni della rampa di connessione tra lo svincolo L'Aquila Est 17 Terra, la superstrada di Bazzano in pratica arteria molto importante per la città. Si parla di uno smottamento piuttosto importante e significativo che è interessato però al costone che sovrasta la strada andando a franare su una strada sterrata poi con i detriti che alla fine sono stati bloccati dalla presenza di un guardrail. Il personale di Anas per tutta la giornata di ieri ha interditto al traffico la rampa costruita 40 anni fa e progettata per collegare il casello dell'Aquila Est dell'autostrada 24 con la superstrada di Bazzano. Uno snodo fondamentale soprattutto per i mezzi pesanti diretti del nucleo industriale di Bazzano, Monticchio e Fossa. Una strada però che ha già diversi problemi. Da tempo la statale 17bis nei pressi del casello L'Aquila Est e quindi nel punto vicino allo smottamento vede la presenza di un semaforo per regolare la circolazione. A causa di un restringimento della carreggiata provocato da un'altra frana. Un semaforo che è stato anche oggetto di segnalazioni da parte degli automobilisti che lo ritengono abbastanza pericoloso in quanto al ridosso della curva. La rampa è rimasta chiusa anche ieri ma lo sarà comunicato l'Anas fino a quando verranno terminati i lavori per mettere in tutto in sicurezza.